Nella nostra regione, guardando anche quello che succede altrove, la situazione è molto delicata, come vi abbiamo rappresentato, ma non è drammatica come quella che si è vista in altre regioni. È chiaro che nel momento in cui faccio queste affermazioni incrocio le dita e mi auguro, come tutti noi, che gli interventi, gli assetti organizzativi, l'attenzione da parte di tutti consenta di mantenere questa situazione. Da quello che ci risulta anche a una verifica di stamane, le situazioni più critiche sono Castel San Giorgio, la residenza, non ti scordar di me, con 44 ospiti, tra i quali ci sono 25 negativi e 12 positivi. Sugli altri i test non sono stati definitivi e quindi vanno ripetuti. Per quanto riguarda il personale, 15 persone negative, 13 persone positive tra il personale, che sono state sostituite da altre persone. Poi c'è una residenza per suore anziane, che hanno 40 ospiti, di questi 13 positive 27 negative, purtroppo tra le 13 positive c'è stato un decesso. Queste sono le situazioni che sono particolarmente attenzionate in questo momento, sulle altre ci sono alcune situazioni sporadiche, ma in stretta sorveglianza, come vi dicevo, con quel sistema dei referenti per la sicurezza direttamente attestati sul corpo.